A Civitanova si rafforza il mercato del gas grazie all'ingresso di un nuovo player nazionale. Sentite Caterina Cantoni. Nasce dall'accordo tra Atac Civitanova ed Estra Energia, il nuovo assetto societario di Gas Marca, la società che fornisce gas ed energia elettrica alla città di Civitanova Marche. Quella di Estra è stata l'unica offerta arrivata in seguito al bando per l'acquisizione di Gas Marca, che prevede l'iniziale cessione del 49% che tra 5 anni diventerà il 51%. Naturalmente ci consente di guardare ai piani industriali e ai piani di espansione dell'attività propria di Gas Marca, che è quella di vendere gas e energia, con condizioni e auspici molto più forti e molto più fondati. In un mercato che spinge sempre più verso le aggregazioni, l'ingresso di Estra permetterà dunque alla nuova Gas Marca, che porta in dote 16.000 clienti gas e all'Atac Civitanova, di incrementare il fatturato e acquisire un maggior numero di clienti, così da rendere la società più competitiva senza trascurare l'attenzione verso il cliente. In questo senso vorrei tranquillizzare un territorio che continuerà ad avere un suo riferimento in Estra e in Gas Marca, perché la nostra modalità dell'approccio commerciale è estremamente legata ai luoghi storici di queste importanti aziende, che nel tempo hanno fornito ottimi servizi ai territori. Noi non inseguiamo modelli iper commerciali o iper industrializzati. La nostra conoscenza del territorio, inoltre, è la conoscenza di quelle che sono le necessità altre del nostro territorio e le interazioni che noi possiamo allacciare e di cui ci possiamo far tramite tra il territorio ed Estra sono un altro plus che penso a cui Estra non sfuggirà e che sarà un altro dei campi del sviluppo futuro del rapporto di questa città con Estra. Quindi siamo estremamente fiduciosi e sul sociale e sulla parità di fondo. Durante la conferenza stampa più volte è stata sottolineata la comune visione dell'aspetto sociale. Non dimentichiamo che un gruppo è una multutilità pubblica perché è partecipata da altri comuni. Quindi per noi è stata una fortuna avere un partner ideale proprio per mantenere ed anzi migliorare gli obiettivi sociali che Gasmarca ha sempre avuto.